Buon pomeriggio e bentrovati da Firenze Smart e da Mauro Ciutini in studio. Code e attratti, il traffico intenso in A1 tra Calenzano e il Bivio A1 variante di Valico in direzione di Bologna. Sempre in A1 un veicolo in avaria tra Valdarno e Arezzo, questa volta in direzione Roma. Ci spostiamo sulla Firenze Pisalivorno, tra la Strassigna e Firenze Scandicci, anche qui un veicolo in difficoltà, direzione Firenze. Un aggiornamento per quanto riguarda i treni, lo straordinario 6051 Borgo San Lorenzo Marradi viaggia al momento con 17 minuti di ritardo. Infine ricordo la stratale 223 di Paganico è chiusa per un chilometro e mezzo in direzione Grosseto a Campagnatico per uno smottamento. È tutto, grazie a Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!